In tempi di ristrettezze economiche, anche Piedimonte e Tneo punta all'affidamento ai privati delle aree a verde pubbliche. Presso nel comune Pedemontano sarà pubblicato un bando per il mantenimento delle aiuole, delle rotatorie e di tutti gli spazi a verde. L'iniziativa è stata denominata Adotta un'aiola. I privati, dal canto loro, dalle aziende florovivaistiche agli operatori commerciali e alle associazioni, potranno suffruire di un ritorno di immagine, apponendo nell'area gestita un cartello per pubblicizzare l'intervento. L'iniziativa, sempre più diffusa nei comuni, le cui casse non consentono più un'adeguata manutenzione di ville e aiuole, mira anche ad infondere nei cittadini maggiore senso civico e di appartenenza al proprio territorio. Prendersi cura del verde pubblico significa contribuire ad una migliore vivibilità. Chiunque potrà prendere parte alla gara, sottoscrivendo successivamente uno schema di convenzioni con il comune. nel quale si impegna a garantire i necessari standard di manutenzione dell'area adottata.